Bella vecchi drapanini, siamo i granamas Un nuovo video senza pesca Credibile Fantastico E oggi siamo qui su YSketch Perché è il gioco Inventato dall'Apple, questa era brutta e ce ne andiamo Comunque siamo su YSketch E dobbiamo disegnare le cose che ci dicono E l'altro devono indovinare, molto semplice Tutto qua Adesso a che cazzo tocca però? Ancora a nessuno Prova da spingere su away tipo A 101 away vai, tocca a te Ok, tocca a Xenic Vai Xenic Aspetta E una cosa orrenda Gun, ovviamente dobbiamo scriverlo Ah non è in italiano? Ah no è vero, c'è una ragione, è in inglese È in inglese Gun, come si scrive pistola Pistol Madonna che brutto disegno che hai fatto Eh lo so Non posso fare Sembra una supposta quella roba lì che spara Dai cazzo non mi viene neanche in me Boom Più o meno Ma perché con la U? Infatti perché con la U? Boom Ma non ci avviciniamo neanche Eh no, con Shot si è avvicinato David Shot Dai eh Eh tipo C'ha presente quando nei fumetti Boom Crash Bang Bang Oh le Grande grazie per averlo detto No ho scritto io però eh Ho capito però i punti li ho preso anch'io Potevi mettere tipo il suono Non lo so la Eh ho provato a fare tutti i modi Ah cazzo Eh Porca Eva Ho trovato troppo forte Incredibile Io non ho visto neanche che cazzo hai scritto figurate Eh ma infatti non devi vederlo Troppo forte Dovete spingere su Dan comunque poi Ah ok Su Dan È perché ha messo away Matteo Perché non ho fatto un tempo a farlo Ma come? Ma regà io non so cosa guardi sta cosa Ma che cazzo è sta Ehm Ehm Che come? Aspetta aspetta Bello Bello White Bianco Ma perché sta disegnando bianco infatti? Nothing Iron Man Sono troppo forte No no C'eri cazzo Ehm Scimpanze Cheetah Dai Ce li provo No Ehm Come cazzo si scrive? King Kong Ma che cazzo Ma che è? Ape Eh no è troppo forte Eh no no aspetta aspetta Come cazzo si dice? È che mi sto impegnando a fare i peli ragazzi Ahahah Non ne ho la più pallida idea comunque Cioè Dai sei ancora 9 ma te Ma che cazzo Eh ho capito cioè Ma che cazzo Cioè È una scimmia questa Più che scimmia che posso dire Si pensa bene Eh è giusto Non ne ho capito Scimpanze No vabbè dai dai Hai cercato tu il traduttore come se E grazie al cazzo Però ho capito che era quello Cioè Ah ce l'ho ce l'ho Ma che sta è buono Che non me so sbagliato pure a disegnare Che che c'hai? No Vabbè è una E più di così non posso fa niente Ah regà ma ho fatto un naso di Cristo comunque Cioè perfetto Merda sei un artista Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Il nuovo Picasso Vabbè intanto che voi continuate a fa io faccio tutta la faccia Ah regà pare tipo un tossico odmd Cioè che roba è Ma che ho fatto sta roba E allora ce l'ho è zamp Ma che zamp No puzza dice che puzza Cioè non è che puzza Vabbè cancellate il puzza Fate finta che il puzza non c'è sale Smurf perché quello che dice puzza può puzza Dai un int dai un int Dai un int Dai un int Eh ma che cazzo è di quattro e Ma ne ha G o una O? Era Odor Eh infatti ho scritto game odor Ma devo si dice smell Aspetta aspetta qua Qua sono fortissimo Li state googlando bastardi lo so Lo sapevo Lo sapevo Aspetta Aspetta Olè Ah regà ma questo come cazzo lo faccio? C E' una C Chiaramente una C Vabbè vedo già il coso e che io scrivi prima faccio perché non so come fallo guarda Perché ti giuro non saprei proprio come disegnarlo Ah Che cazzo Arrivava bene un disegno Praticamente Allora questa è Sembra Sembra che sto iniziando a disegnare o un tronco o un cazzo no? Si si Però basta cazzi basta membri perché ne abbiamo abbastanza In realtà Date le mie doti di Picasso di artista Adesso facciamo così No cioè è giusto però Oh cazzo roia come faccio? Ma che cazzo faccio a fartelo? Che? E' impossibile Ma che cos'è? Dove ne do un altro no? Non c'è la persona Bello cosa stai cosa che? Ah Ma che è tipo il matrimonio? No Allora quella del guanto l'avete detto giusto Però c'è un'altra cosa Si ciao Ah ho capito Il guanto e due facce Cioè che 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 Un altro E' ga è ga glove capito per dire tipo ga No cambia assolutamente la parola Ma che cazzo Ho definito il tempo Ho definito Ho definito Ho definito Un altro No E' tipo guanto da sposa? No Guanto da sfida era Ma perché sei away? Allora Guarda Sei away infatti te eh? No manco per cazzo da Che è? No lo so lo so Tennens Ma perché? Che cazzo? O Trampoline Trampolino No raga Come si dice in inglese trampolino? Ma aspettate che finisco di Ma che è un dislike di facebook? Dislike Hihihi Un cane che è? E' una moca a Cristo Dio Ma che non lo vedi che è una moca? Eh ma come cazzo? Moca Googlealo Clooney Ma che cazzo google anche se fosse George Clooney Quello è un fornello cos'è? Barbara d'Urso Dai su e per non fa Cioè hai capito? No in effetti no perché non so spiega cosa è merda Quella che metti per non fa Cioè per non fa fa troppo attrito Capito? Nella moga perché se no non esce il caffè Oh porco due Ah ho capito Vai cura dai traduttore vai Ma che cazzo è casca Barbara d'Urso Ne è guarnizione Ne è guarnizione Eh poi Non vale non vale Era topping Fanculo fanculo Comunque dovevamo fare la cosa più semplice Io volevo disegnare tipo cagnolini e pesciolini Cazzo Ma la mia ragazzi incredibile Oh ma sei in testa Non va bene sta cosa Non mi ricordo quale cazzo è Cazzo è sto mio Ma che è Gesù Che cammina sull'acqua No è tipo Capito Cioè Io ho capito Tipo ho capito Che sta proprio a piottare Che scappa dalla polizia Oh mio tori Ma non è che Non sta scappando dalla polizia Sta a piottare perché Perché piotta Perché Perché è 100 metri È Bolt Eh vedi che loro hanno ragione Skater Bolt No Scappa la cacca Wow Mike Un delu Wow Un delu Cosa è ti dico Scappa la cacca Olè Sì 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 Ho vinto di un punto Non ci posso credere Ma dai ma non vale Ho vinto di un cazzo Perché io ho chiuso a David Non ho fatto scrivere Che pezzo di merda 69 ovviamente Ovviamente Qualcuno 2 È uscito Era triste Sì La sua battuta Che non vedete Perché sarà tagliato Ma tu non stai vedendo Cosa sta disegnando adesso Vabbè Non stai registrando tu Vero Ma te Sì No 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 Schimpa Schimpa Vabbè Tanto Xenic Dovrà tagliare Tutto quello Che Dello Avrà Disegnato E niente Ragazzi Passate sul cani Dello Per vedere I tuoi video E niente Noi ci becchiamo Al prossimo video Come sempre Bella 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 Bella